Salve, sono Alessandro Di Dio della società Traslog SRL di Sera Vino Di Dio e ho acquistato il gruppo CEM con le scale Paus. Noi abbiamo quattro scale, dalla 21 alla 43, una 21 metri, due 33 e una 43 Paus. Ci sono trovati benissimo, non ci sono mai stati problemi, abbiamo fatto anche cose importanti, lavori diciamo più difficoltosi con sbracci, meno sbracci e devo dire non hanno mai fatto veramente insomma una piega. Sia dalla più piccola, che era la 21 metri porter, era la 43 Paus sempre. Volevo consigliare appunto questa azienda perché secondo me è molto valida e le scale sono rocciose insomma valide. Ok? Grazie!